Albaneto e le sue chiese, dalle origini al ventunesimo secolo. Un libro del professor Vincenzo Di Flavio e siamo con lui nella splendida cornice di una delle chiese che lui ha celebrato e messo in piena evidenza all'interno del libro. Come nasce questo progetto editoriale, professor? Nasce molto da lontano, già nel 1975 ho fatto alcuni articoli sulla storia di questo paese, poi l'ho ripresa successivamente e l'ho portata a termine finalmente quest'anno soprattutto per iniziativa e per promozione del Comitato Festeggiamenti e dell'Università Agraria di Albaneto. Per un amore condiviso con la gente di Albaneto da cui è stato adottato e che lei ha adottato, come è nata questa vicenda di condivisione che ha portato poi frutti importanti sul fronte culturale? Sì, da una lunga frequentazione e da amicizie che abbiamo coltivato la mia famiglia ed io qui in questo paese dove abbiamo anche un caro comparuccio. Chiesa di Santa Maria dell'Annunziata, quella che fa da cornice alla nostra intervista, una delle quattro chiese di questo paese che per la sua esiguità territoriale ha avuto la forza, la costanza di mantenere quattro chiese. Vogliamo anche ricordare le altre tre chiese? Allora, le altre chiese sono Santa Maria degli Angeli, detta la Madonnella, che chiude a valle il paese e in alto invece abbiamo San Nicola, che è una delle chiese più antiche del paese. La Madonnella è nata intorno al 1678, invece di San Nicola abbiamo notizia già nel 1398. C'è professore anche una chiesa del crocifisso, sbaglio, o qualcosa del genere? C'è una chiesa detta anticamente della croce, anch'essa nominata nel XIV secolo e poi in seguito rimodernata, fu detta del crocifisso perché era dominata da un affresco che si vede tuttora, ma è studiato purtroppo, ma è un ciclo di affreschi sulla passione di Cristo che merita di essere studiata e che ha dato il nome a una confraternita del crocifisso e in seguito è rimasta anche la chiesa. La maggior difficoltà nel suo lavoro? La maggior difficoltà è quella del riperimento dei documenti, purtroppo qui non esiste più nessun documento nell'archivio parrocchiale, quasi andato tutto distrutto, tutto perduto. Molti documenti ho potuto trovare nell'archivio Vescovile di Rieti dove anche era intracciato un disegno del 1600 che dà un'idea di quello che poteva essere Albaneto. Per la sua scoperta di piccoli e grandi capolavori e per una proposta forte, la creazione ad Albaneto di un museo di attesati. Sì, una custodia comunque sicura di tante opere, argenterie, parati, tronetti e altre pitture e sculture che poche altre chiese credo hanno e quindi meriterebbero di essere ben custodite ed esposte perché allora solo si possono apprezzare e quindi mantenere e tenere come preziose. Un'opera culturale davvero degna ma perché ciò possa essere possibile è necessario l'impegno concreto di chi dia volontà e sostanza ai progetti. Quindi giusto e legittimo ricordare il comitato festeggiamenti di Albaneto e l'università agraria di Albaneto. Che prendano qualche concreta iniziativa perché questo si realizzi, perché non è una cosa che bisognerebbe fare, è una cosa che è urgente fare. Su questo io insisto e ad Albaneto i locali per fare un piccolo museo sacro non mancano e sarebbe un richiamo per tanti, forse anche per tanti studiosi. Un auspicio per chiudere nel presente di Albaneto rispetto a un futuro che possa restituirle quella identità che gli appartiene. Sì, e allora bisognerebbe un po' denominare le strade e le piazze ricordandosi di come Albaneto era diviso ed era chiamato nelle diverse zone nel catastro napoleonico del 1817. Partendo da lì si può ridare ad Albaneto un lustro interessante. Con il professor Vincenzo Di Flavio da Rete Zero con affetto.